La Giunta regionale ha approvato la delibera dell'assessore all'energia e servizi di pubblica utilità Alberto Pirobon, con la quale si lascia invariata la tariffa idrica che Sicilia Acque applica per alimentare gran parte dei comuni siciliani. L'importo della tariffa rimane fermo a quasi 70 centesimi al metro cubo. Aumentarla avrebbe significato aumentare i costi per i cittadini siciliani, in quanto i gestori locali caricano interamente in bolletta il costo per l'acquisto dell'acqua da Sicilia Acque. La società di sovrambito detiene la gestione dell'acqua all'ingrosso a livello regionale e fornisce i singoli ambiti, tra i quali ad esempio l'agrigentino Girgenti Acque. Il calcolo tariffario per l'alimentazione idrica avviene secondo un metodo imposto a livello nazionale dalla RERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Le tariffe approvate, quindi applicabili per il servizio di alimentazione idrica, restano in vigore per quattro anni e ogni due anni sono oggetto di verifica da parte del governo regionale. La Giunta lascia praticamente invariata la tariffa che Sicilia Acque continuerà ad applicare per erogare l'acqua. La delibera, spiega Piero Bonna, consente in sostanza di lasciare invariate le tariffe senza incidere nel canone che Sicilia Acque versa alla regione, ma semplicemente rideterminando l'importo annuo. Così eviteremo ripercussioni a cascata sui cittadini. Ad ogni modo, conclude, stiamo lavorando su un altro aspetto fondamentale che riguarda gli investimenti sul sistema idrico, perché in futuro non si potrà pensare di rivedere le tariffe senza migliorare il servizio per i cittadini.